Sono molto contento di essere qui a Bianchi, un borgo meraviglioso, peccato che col passare del tempo va scomparendo quella vivacità, quella dinamicità che ha sempre contraddistinto questo luogo. Molti giovani sono andati via, però questi sono dei luoghi che non possono essere abbandonati. Dovremmo ripensare come Calabria ad una rivitalizzazione, perché solo così possiamo costruire un futuro. A Bianchi abbiamo parlato del libro di Don Nunnari che ho scritto ormai cinque anni fa, un'occasione per rileggere pagine di storia di questa regione, che è una regione che ha tante cose, tante contraddizioni, ma anche tanti momenti esaltanti, con uomini che l'hanno attraversata e dai quali abbiamo attinto la tenacia, la forza, la determinazione, quella che oggi contraddistingue il nostro popolo. Senza queste doti, senza questi valori, difficilmente avremmo potuto resistere in una terra dove c'è davvero molto, molto poco. musica 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 Grazie a tutti.